E ciao! Ve lo ricordate il caro e buon vecchio Ico? Con questi Pio riesco naturalmente a farvi la denuncia e segnalarvi a 5M, quindi va a attaccare il cazzo. E niente, una sera era in live, ha scammato la radio della sua fazione e non ho potuto perdere l'occasione di trollarlo un pochino. Niente di personale Ico, ti si vuole bene, lo sai? E quindi che dire, iscrivetevi, lasciate un like e godetevi il video. Allora, ragazzi facciamo così, io c'ho un problema con le corde enormi, vi va bene se le annulliamo? Che devo andare immediatamente in caffetteria a capire che cazzo succede? Sì, però devo prenderli armi. Sì, sì, le potete prendere, non so, dove gliele messe? Sì, dagli tutto quello lì che c'hanno loro, veramente, io devo andare in caffetteria. Chi è il figlio di buona madre che naturalmente dice queste cose in radio? Se hai le palle, no? Ridillo. Almeno ha da avere i coglioni. Ma voi dove state? Noi stavamo al garage centrale, voglio sapere chi ha detto ciò che cazzo. Un momento, un momento. L'ho detto io, coglioni, ciò che cazzo. Ma chi si fa così? Ok, il D25, mi vieni in caffetteria, grazie. Mi vieni in caffetteria che ti ho visto, che hai parlato? Tu pensi che io sono così stupido che non vedo da TeamSpeak, essendo developer, DTS, a vedere chi cazzo parla? Rimani comunque ciò che cazzo. Anche tu amare, una gran bocchinara. Cia, cia, mi sono lì. Non c'è niente di male a succedere i piselli. Cia, cia, piselli. Ma chi è che fa così? Sto venendo a fare dei WDM. Ora ti metto sotto, sto venendo a metterti sotto. Dai, vieni, numero 25, vieni, non c'ho paura di te. Di un pagliaccio come te. Questo è entrato dalla console, fatto prima. Perché non sapeva manco la radio. Sarà uno di quei figli della merda che naturalmente controlla la live e deve romper il cazzo. Che poi il 25 è uscito pure. Pagliaccio. Vado un attimo in caff. Ma... Aspetta, sono morto. No. Aspetta. Cazzo periti, bollone. Brava, ce l'hai messo. Ma il cazzo periti? Ma l'hai messo. Ma quel cazzo sei morto? Ce l'hai pure la cintura. Aspetta, chiamo un angio. Che to. Chiamo un angioletto di se vuoi. Oh, ma c'è uno che urla in padio. Sono tornato. Non vieni bene, io ti vedo. Mi fa piacere. Ti stimolavo. No, quello che è con me. Su chi cazzo? Su chi cazzo? Su chi cazzo, piselli? Ma i piselli quelli che si cuociano. Ma? Ma? Grande, siamo morti in due. Chiamalo di sì. Questo è il nostro potere. Questo è il nostro potere. Non ti libererai mai di noi. Le bestie sono arrivate, Ico. Sono arrivate. Sono tornate. Non sono una bestia qualunque. Sono il boss. Ossia? Non lo so, il bestie è blu e l'altro. No, io sono più in alto di loro. Sei troppo forte. Sono più in alto di loro. E chi dovresti essere, dai? L'utilizzo del tuo canale è scoperto dal server. Anche a me mi fa piacere parlare con te. A Pippo! Alla prossima! L'ho bannato. Ci crede pure. Voglio vedere il commento adesso. Eh, perché stiamo facendo... Allora, noi stiamo andando a... Allora? Te la farà la rispettazione? A posto, è il prossimo? E perché ha scritto quella cosa? Mamma mia, oh! Non lo so. Mamma mia, oh! Quanto è geniale questo! A posto, ho fatto fuori un altro, dai! Da posto fra! Ma come ti permetti, Igor? Non sono stupido, non ti devi permettere! Non sono stupido, per niente! Basta, non ti deve mai dire, Igor! Non ti deve mai... Ma che cazzo! Oh, tanto, eh! Fallo veni con noi, aspetta! Ma che me frega, fallo veni con me! Mi succhiesse il sottopalla! Oggi starò a buttare fuori la gente da... Dal T... Dal TS, uno per uno. Divertente! Mmm! Poi vedere i loro IP è ancora... Mmm, ancora più bello! Soprattutto quando vengono dalle loro corde Che non le possono manco modificare È ancora più bello, gasante No, eh, per aiutarlo, che cazzo c'è? Oh, guarda! Hai visto chi c'è? Hai visto chi c'è? Guarda, quello di prima che corre, guarda, vieni, vieni Dì, se può parlare! Si fermi! Il nome della legge! Si fermi! Si fermi, signor! Ma perché c'è la camminata strana? È uscito senza mascherina, c'è il Covid! Signore, si fermi! Si è volatilizzato? Ma stiamo giocando a nascondino qui, mi trovate sì o no? Se passa il tram, ma che mano fotte di trovarti? Cioè, con tutto il rispetto, anche se ti stimo! Ci metto due secondi a trovarti! Cioè, con tutto il rispetto, anche se ti stimo!